Le ragazze se la sono meritata, una bella vittoria 3-0, brave loro, brave ad aver fatto tutto quello che era stato chiesto durante gli allenamenti. Quest'anno con il Presidente, dopo la bellissima cavalcata dell'anno scorso, ci siamo guardati e abbiamo pensato di ripartire formando uno zoccolo duro di giovani per poter poi innestare un paio di atleti più esperti e cercare di fare il salto, ma con uno zoccolo duro che sia quello nostro. Su cui poter lavorare più costantemente e più assiduamente. Ripeto, il nostro campionato è diverso da quello dell'anno scorso, sì è vero, però ci prefiggiamo di dare fastidio a qualcuno che sia negli piani alti della classifica.